Recensione delle prime tre puntate di Rings of Power, ovvero Gli Anelli del Potere, questa serie su Prime Video, dedicata appunto al franchise del Signore degli Anelli. Allora, non starò qui a riassumerti gli eventi perché ci metterei una vita, dato che sono tre puntate di un'ora ciascuna, però quello che appunto voglio cercare di raccontarti in questo video è appunto le mie opinioni su quelle che ho visto, l'esperienza visiva di per sé, e se questa serie ha senso che la mandano avanti, o quanto meno che la mandano in onda perché ha ricevuto un bel po' di critiche per alcune scenette che cercherò di farti vedere e diverse altre cose. Allora, se vai a vedere sul canale YouTube troverai già le mie recensioni delle prime puntate della prima stagione. Diciamo che ero abbastanza critico ma non più di tanto perché una prima stagione è una prima stagione, cioè ok che magari devi cercare appunto di mandare dei messaggi ma ci sta a fare contesto, no? Il problema però di Rings of Power per quanto riguarda la prima stagione è che secondo me hanno fatto troppo contesto, cioè quello che dovevano fare era introdurre il personaggio di Sauron, ok? E non l'hanno fatto. Cioè, quello che dovrebbe essere il personaggio più importante, più più importante della serie, perché senza di lui non ci sono eventi, viene messo in secondo piano. È solamente un pochino all'inizio e verso il finale gli danno un minimo di importanza narrativa. Ecco, secondo me si sono resi conto di questo errore madornale e letteralmente nei primi dieci minuti di questo primo episodio ti fanno vedere quello che avremmo dovuto vedere nella prima scena della prima stagione. O quantomeno non ti dico proprio primissima scena perché lì l'attenzione è molto di più sul personaggio di Galadriel che a mio modo di vedere era anche interessante. Però se non ti fanno vedere poi la prospettiva di Sauron, insomma tutto quello che è successo, è normale che poi qualcosa si perde. Infatti qui che cosa ti fanno vedere è quella che è stata appunto la morte di Sauron che poi l'ha portata appunto a diventare una sorta di Melma, una sorta di essere vivente che non aveva a tutti gli effetti una forma umana anche se poi man mano l'ha riconquistata. E mi è piaciuta molto questa parte narrativa perché questa poi sarà anche una cosa che andranno a portare avanti anche nelle prossime puntate, insomma nella seconda e nella terza, che hanno capito che gli eventi di questa serie devono girare attorno a Sauron. Cioè Galadriel è bellissima, l'attrice secondo me è bravissima, come anche Durin IV, bravissimo pure lui. Mi era piaciuto pure quell'elfo di colore, anche se non era così tanto canonico il personaggio, probabilmente. Però ecco, non puoi togliere l'attenzione da Sauron, devi dargli un'enfasi narrativa. E tra l'altro qua riesco, pensa te, a dargli una sorta di arco narrativo che lo va un pochino a redimere il personaggio perché sceglie appunto di non andare direttamente a Mordor e cercare di avere una nuova vita che poi insomma il tutto si ricollega appunto alla primissima puntata della prima stagione. Però capito, queste sono cose interessanti, sono cose belle da vedere, sono fatte maledettamente bene a mio modo di vedere e che servivano appunto durante la prima stagione. Metterlo qui? Non lo so, perché mi vai a chiudere un punto lasciato in sospeso che nella prima stagione non era importante evidentemente a questo punto, mentre invece adesso lo è. Quindi qualche domanda, se permetti, io me la faccio. Detto questo però, appunto, andando oltre, ti devo dire che queste tre puntate alla fine sono servite per permettere al pubblico di riavvicinarsi ai vari personaggi che abbiamo conosciuto della prima stagione. Poi sono il primo a dirti che quando vedi che ci sono uno barra due anni tra una stagione e l'altra di queste grandi serie, permettimi, io avrò una memoria non così tanto a lungo termine, ma alcuni dettagli me li perdo. Certo, loro ti vanno a mettere riassunto ad ogni puntata, benissimo, però se avevo un impatto emotivo nel seguire evento X e tutto quello che vuoi, sicuramente si perde questo. Quindi il ritardo che c'è tra una stagione e l'altra a livello di rilascio si sente, ma come su questa e anche su tantissime altre serie. Poi, a parte questo, ti posso dire che dal punto di vista tecnico, o dal punto di vista scenografico, la serie è fatta veramente molto bene, mi è piaciuto come, insomma, hanno dato un, come ti posso dire, uno stile grafico, appunto uno stile di colore ad ogni evento, anche perché è ambientato in una parte diversa dalla terra di mezzo, ti fanno vedere come i personaggi cercano un pochino di crescere sempre di più, ma si portano dietro i difetti o quantomeno i loro limiti della prima stagione. E tutto questo è fatto in modo abbastanza interessante, assolutamente sì. Il bello è che ti vanno a riprendere anche le canzoni della prima stagione, che avevano, diciamo, un senso in quel contesto, mentre invece qui ne vanno a cogliere un altro. Quindi anche questo è una cosina interessante. Poi ti vanno ad introdurre anche nuovi personaggi, come Kidran, questo qua è uno degli elfi più importanti della terra di mezzo, che però anche lui si trova al centro delle critiche per una scenetta che ti farò vedere a breve. Però ecco, l'introduzione di nuovi personaggi secondo me funziona fin tanto che è contestuale. E dato che finalmente arriva il momento clou, appunto, dove ci sono questi personaggi, degli elfi, che devono decidere di utilizzare o meno questi anelli del potere, allora il tutto comincia un pochino ad amalgamarsi a quella che è la lore dei romanzi di Tolkien. Poi sono il primo a dire che la serie va su tutta un'altra strada. Cioè, questa è una critica che secondo me ci portiamo dietro o quantomeno ci porteremo dietro per sempre. Perché non è una serie una a uno. Non cerca di esserlo. Quindi ogni volta che vedi qualcuno che la va a criticare perché non è uguale a quello che è stato narrato da Tolkien, mi dispiace dirlo, ma quali sono le serie che sono uno ad uno al romanzo? Guarda che per esempio, per esempio, Foundation non è minimamente uguale a quelli che sono appunto i romanzi. Che tra l'altro l'attore di Kidran si vede anche nella serie di Foundation. Quindi, cioè, io non penso che sia così tanto intelligente andare su Twitter a lamentarsi ogni volta che eh, hanno cambiato la trama. Adesso questo personaggio non c'è. Adesso questo fa una cosa diversa. Cioè, va bene. Ok, è giusto evidenziarlo fino a un certo punto. Ma poi cerchiamo di valutare come questo funziona nell'economia della serie. perché se no, una volta che diciamo che questo è diverso, la critica non c'è più o quantomeno si ferma solamente lì e basta. E secondo me non è giusto perché poi la serie ha qualcosa di più da offrirti. Ci sono delle belle scene, sono girate anche bene. Cioè, ho visto persone che si sono lamentate della regia, della colonna sonora, della fotografia, anche degli effetti speciali. Permettimi, io non so che cazzo avete visto. Cioè, vedo una scena di questo tipo e non mi sento di dire che è fatta male, ma come questa tante altre. Cioè, ti ripeto, la serie ha dei punti buoni. Poi magari la sceneggiatura sarà scritta da cani, eh. In alcuni momenti, alcuni personaggi sono un pochino buttati lì. O alcune cose sono talmente tanto inverosimili che pure io ti dico, guarda, siamo all'interno di un mondo di Tolkien, ma mi sembra una cosa veramente, cioè, non ti dico Aragon che va a richiamare i morti per sconfiggere Sauron, ma addirittura oltre a quello. Poi, nonostante quella era una cosa contestuale pure nei romanzi. Però il senso è che bisogna valutare un prodotto per quello che è, non per quello che doveva essere secondo la nostra testolina o chissà cos'altro. Perché il romanzo rimane il romanzo, la serie è la serie e poi, certo, se i cambiamenti non sono buoni e portano ad un prodotto che sia proprio brutto da vedere, allora ne parlerei. Detto questo, però, come puoi vedere all'interno di questa puntata, ci sono i vari anelli che vengono appunto utilizzati dagli Elfi. Questo va a rinvigorire quell'albero con tutte quelle foglie dorate. Quindi questo significa che i vari regali, se così vogliamo chiamare, appunto, di Albrand o quantomeno di Sauron, funzionano. Perché anche questo è il bello di questo personaggio che è vero che è cattivo, sta facendo tutto un sotterfugio, ma alla fine della fiera sta dando appunto un aiuto alle terre di mezzo. Poi, certo, tutto sappiamo come andrà a finire e questo bisogna pure dirlo che una delle cose che ho letto in rete è che questa serie cerca di mandarti, come ti posso dire, un messaggio per farti capire, guarda, succederà X, arriverà collegamento, Y e tutto il resto. Però se tu hai visto i film di Peter Jackson, se hai letto i romanzi e mi auguro che tu li abbia letti, è un pochino scontato. Quindi quando la serie deve cercare di farti capire che il collegamento c'è, però non te lo dici apertamente, è un segreto veramente da quattro soldi e su questo sono assolutamente d'accordo appunto che quando una serie cerca di farti capire determinate cose senza dirtelo apertamente è uno spreco di tempo perché noi sappiamo Sauron a cosa vuole arrivare, sappiamo qual è appunto il suo piano, a che cosa porterà determinati personaggi a livello di evoluzione e tutto il resto. Quindi alcune cose non funzionano, se mi permetti, ma che cosa vogliamo fare qua? Vogliamo veramente prenderci sul fatto che semplicemente noi conosciamo la storia? Direi di no, però non lo so, non riesco a vedere il tutto così senza essere un pochino annoiato da questi passaggi narrativi. Detto questo, però mi è piaciuto molto questa intro del secondo episodio dove ti fanno vedere questo sogno strano di Galadria dove vede la morte di Celebrimbor e di come con la nascita del vulcane appunto a Mordor tutto questo poi si sente in altre regioni appunto delle terre di mezzo come anche all'interno della montagna dei Nani e quindi là loro perdono un po' di contatto con la superficie e tutto il resto quindi piuttosto interessante. Poi tra l'altro ci sono dei passaggi dove ti fanno capire che Albrand è riuscito ad intervenire per evitare appunto che il messaggio degli Elfi arrivi a Celebrimbor insomma un pochino per avvisarlo e dirgli guarda non ti fidare di Albrand che in realtà è sano ma questi sono cosine un pochino secondarie. Poi tra l'altro c'è tutto un passaggio piuttosto interessante dove ti introducono altri personaggi che sono legati alla trama dello straniero quantomeno appunto di quello istari che tutti quanti abbiamo detto che Gandalf non abbiamo ancora la conferma di tutto ciò ma tecnicamente avrebbe senso anche se forse a livello di cronologia non è così però la cronologia di questa serie non è mai stata specificata quindi prendiamo per buono tutto hanno fatto un miscuglio di robe anche questo bisogna dirlo non è una serie che devi prendere alla lettera per quello che ti fanno vedere però insomma quando ti introducono altri personaggi dei maghi oscuri così li vanno a definire insomma vuol dire che qualcosa di importante c'è vuol dire che vogliono sfruttare questi altri personaggi così tanto potenti e tra l'altro ti fanno vedere anche questo personaggio femminile che si era visto appunto verso il finale della prima stagione molto interessante e poi c'è anche tutto un passaggio appunto con insomma questo istario quanto meno questo tizio che dovrebbe essere Gandalf assieme a questi hobbit o quanto meno proto hobbit così li avevano definiti andiamo avanti ti faccio vedere sempre altri screenshot sempre in carrellata qua c'è tutta la discussione tra Durin padre e Durin figlio che è molto interessante perché ti fanno capire anche quali sono i poteri appunto della moglie di Durin figlio che riesce a cantare per cercare di avere il favore della montagna che è interessante sia anche se è una scelta piuttosto particolare che poi non va nemmeno a buon fine però appunto sono tutti un insieme di scene che ti fanno capire come ogni personaggio non è messo lì a caso io mi ricordo anche le critiche sul fatto che i nani non dovrebbero essere in un certo modo sul fatto che appunto alcuni personaggi non ha senso vederli in questo contesto ma andiamo un pochino oltre ora ti faccio vedere questo screenshot per parlarti di una delle due scenette più criticate di queste prime tre puntate perché qualcuno ha scoperto che gli elfi si fanno la barba ho visto un post su facebook giusto oggi dove c'era una persona che si lamentava che gli elfi si fanno la barba allora lungi da me da prendere per il culo le persone però cristo santo di una madonna ma veramente ci dobbiamo lamentare che gli elfi si fanno la barba che la fanno con la schiuma quando oh non sono il più grande esperto di barba come puoi vedere però mi pare di capire che fin dall'antichità gli uomini si sono sempre fatti la barba magari non si mettevano la schiuma ma qualcosina utilizzavano penso quindi se dobbiamo prendere per il culo una serie perché c'è un personaggio che tra l'altro prima Kidran con la barba era bellissimo non so perché te la sei voluta tagliare secondo me non ha senso però appunto dobbiamo veramente stare qua a lamentarci che il personaggio si è fatto la barba dai ma davvero ma non ci voglio credere a queste cose dai però a parte questo ti faccio vedere anche altri momenti qua c'è questo Istari che sta ancora utilizzando i suoi poteri per proteggere appunto le due proto-hobit e poi c'è tutto un momento dove essenzialmente ti fanno vedere anche le varie costruzioni di Celebrimbor che tra l'altro questo riprende quello che si è visto nella compagnia dell'anello dove praticamente la compagnia stava cercando di entrare all'interno di Moria e c'è questa insegna chiamiamola così che si illumina solamente durante la notte o quantomeno al chiaro di luna molto interessante anche questo è un pochino un modo per fare fanservice tra l'altro poi c'è pure la scenetta con Alper che sta aspettando per poter parlare direttamente con Celebrimbor che poi tra l'altro quando ci riesce vediamo quest'altra scena che pure questa è stata criticata ma non più di tanto perché anche qua le critiche secondo me permettimi cioè io posso capire tutto quando però una persona è ignorante non legge i romanzi non ha la minima idea di chi siano gli elfi di chi sia Tolkien e tutto il resto e mi vai a criticare questa scena dove Alper si presenta a Celebrimbor come il signore dei regali ovvero Annatar e c'è questa visione celestiale o quantomeno una sorta di visione come se andrebbe un pochino a paragonare tipo Gesù o qualcosa del genere insomma una divinità permettimi cioè dai però ma quanto cazzo devi essere ignorante per andare a lamentarti di questo cioè nel contesto nel quale tu vedi questa scena ovvero dalla prospettiva di Celebrimbor ovviamente Annatar è una figura celestiale una figura divina che ti permette di creare questi anelli del potere che sono così tanto potenti e il fatto che te lo abbiano voluto far vedere in questo modo è contestuale mi dispiace dirlo ma se non sai nulla di quello di cui vai a parlare è inutile fare critiche secondo me almeno su queste cose non ci siamo non ci siamo poi andiamo avanti arriviamo a un'altra di quelle scene che allora di fuori delle critiche sul web questa la voglio criticare io questa scenetta con il cavallo di Isildur che si fa tutta la terra di mezzo per arrivare da lui penso che sia una delle cose più senza senso che abbia mai visto cioè te immagina un cazzo di cavallo che sparisce nel nulla si fa tutte le terre di mezzo quasi e riesce ad arrivare all'interno di una caverna dove si trova Isildur io questa cosa mi dispiace ma questa cosa non ci credo cioè posso accettare morti viventi posso accettare anelli magici ma che un cavallo dal nulla riesce a trovare Isildur no questa cosa non l'accetto no dai semplicemente l'ho trovata abbastanza strana e poi a parte questo a parte questo insomma ti fanno vedere anche questo semi combattimento con questo ragno gigante che dovrebbe essere Shelob insomma quel ragno che si vede nell'ultimo film del Signore degli Anelli io non lo so non sono un esperto di ragni però parlando di ragni mi è venuto in mente quel sorry non ho una grande conoscenza pure io e poi andando avanti c'è tutta la parte con i personaggi di Numenor che tra l'altro questa è stata una delle cose pochino più criticate durante la prima stagione perché secondo molti critici e secondo molte persone online l'intento degli sceneggiatori era quello di rendere un pochino simile questa parte narrativa a quella di Game of Thrones ovvero di farti vedere sempre appunto un fantasy epico science fiction tutte queste cose qua ma renderlo un pochino più reale appunto con la caduta di Numenor ecco secondo me non ci sono riusciti anche qua quando cercano appunto di farti vedere tutte le varie vicissitudini politiche tutto quello che vuoi secondo me non funziona perché non siamo rimasti a lungo numero e quindi quei due o tre personaggi letteralmente che ci sono li capisci fin da subito che hanno una caratterizzazione particolare quindi non mi colpisce no cioè un pochino come se tu vai a vedere che Tywin Lannister di Game of Thrones è cattivo almeno nel contesto in cui tu sei dalla parte di Stark lo capisci fin da subito quindi non mi vai a meravigliare mentre invece poi se vai a vedere le stagioni di Game of Thrones ci sono più sfaccettatori dei personaggi cosa che invece qui non c'è alla fine proprio perché non abbiamo tantissimo tempo per sviluppare il tutto e poi arriviamo alla scena più criticata dal web perché ti devo dire che questa è una cosa che già si vedeva durante la prima stagione è giusto dirlo è giusto citarlo perché essenzialmente che cosa si vede si vede questa famiglia di orchi che sta cercando di capire quale sarà il loro futuro sotto il comando di Adar questo elfo oscuro che sta guidando gli orchi in questo contesto e molte persone si sono lamentate perché nei film appunto che abbiamo visto nel Signore degli Anelli gli orchi sono tutti cattivi sono tutti brutti e quindi non ha senso vedere che ci siano degli orchi senzienti che possono parlare e che abbiano un minimo in più di umanità nonostante magari sono appunto dei personaggi brutti che magari fanno rituali strani o uccidono appunto altre persone e tutto il resto hanno comunque un minimo di umanità ecco molte persone hanno criticato questa scena perché dovrebbe essere un cambiamento rispetto ai romanzi ora giusto per specificare c'è letteralmente una pagina di Wikipedia che si chiama Tolkien Dilemma che cosa ti va bene o male a dire questa pagina che una delle cose che si è portato dietro Tolkien dopo aver scritto i suoi romanzi è che letteralmente non aveva dato modo di capire al meglio gli orchi cioè questo che cosa significa che se tu hai appunto degli esseri viventi simili agli umani è lecito pensare che non siano solamente dei cattivi magari ci sono anche degli orchi che sono un pochino più umani appunto che non sono personaggi negativi il problema però di Tolkien che gli è sempre descritti in questo modo andando poi un pochino a ritrattare dopo la pubblicazione dei suoi libri appunto dicendo guarda ma in realtà erano degli elfi che sono stati soggiogati appunto da Melchior o quantomeno anche da Sauron e quindi in realtà erano appunto persone e poi insomma ha cercato anche lui di giustificarlo ma senza arrivare a una conclusione appunto di questo dilemma che è rimasto ora permettimi voglio fare un pochino l'avvocato del diavolo in questo contesto che secondo me avere questa idea che ci siano dei personaggi che sono esclusivamente negativi esclusivamente dei personaggi che hanno il ruolo degli antagonisti secondo me non è un gran che di scelta narrativa perché le storie migliori che puoi vedere a livello di fantasy epico a livello di fantasy moderno qualsiasi cosa è sempre dove ci sono non ti dico dei personaggi grigi perché pure qua le persone sono lamentate del fatto che ma abbiamo sempre personaggi grigi no però mi devi dare più sfaccettatura a un personaggio quindi se tu mi vai a dire che gli orchi sono solamente cattivi non ha molto senso perché è una delle varie popolazioni all'interno della terra di mezzo è in conflitto con tutte le altre sicuramente non è che ti sto dicendo di no però anche loro devono comunque vivere e Tolkien stesso ti va a dire che si sono moltiplicati esattamente come gli umani quindi questo che significa che hanno delle famiglie e il fatto stesso che fin dalla prima stagione cercano di avere il controllo su una parte di questa terra di mezzo per continuare a vivere è contestuale con tutto questo che ti sto dicendo quindi il fatto che la serie abbia deciso di prendere una parte di questo dilemma e enfatizzare come non tutti gli orchi sono cattivi secondo me è una cosa che ci può stare cioè non avrebbe senso appunto avere il personaggio di Adar questo elfo scuro che devono cercare anche loro di uccidere Sauron che è una delle cose che ti ho fatto vedere all'inizio di questa recensione quindi c'è capito quando anche gli elfi ti vanno a dire che Sauron non ha un esercito è perché persino gli orchi non lo vogliono ed è interessante come passaggio narrativo però se poi il tutto devi ridurre a questa rovinia qua secondo me non ci sta poi ti ripeto vogliamo essere fedeli ai romanzi Tolkien si porta dietro queste caratterizzazioni che sono problematiche e lui stesso si è reso conto appunto che erano problematiche perché non puoi appunto introdurre un personaggio simile agli umani che non abbia un minimo di sfaccettatura positiva cioè per esempio George R.R. Martin ci ha un pochino riuscito in questo facendo gli estranei o quantomeno appunto i white workers perché quelli sono letteralmente dei morti che combattono e basta non è che stanno lì a comunicare quindi in un contesto simile ci stanno ce ne frega un cazzo sono cattivi ma qui non è così è lo stesso creatore se ne era reso conto però andiamo avanti ti faccio vedere altre scenette vediamo anche che c'è questo personaggio piuttosto particolare ci sono anche orchi piuttosto grandi all'interno di questa serie che tra l'altro sono contestuali i trailer che abbiamo visto insomma se ne hai visti anche in rete dove ci saranno altre battaglie piuttosto importanti detto questo ti faccio vedere le ultime parti appunto di questo racconto insomma di questa terza puntata dove Durin conosce Annatar e non si fida di lui piuttosto interessante anche perché essenzialmente Annatar gli va a dire quanto meno Sauron che Erron ha parlato così bene di lui e quindi ma è strano noi andiamo sempre a fare un minimo di litigio quindi perché dovrebbe parlare bene di me tra l'altro poi in tutto ciò ti vanno a far vedere come Sauron riesce a convincere che le Brimbor a non fidarsi più di Gil-galad ovvero la persona che va a guidare gli elfi e poi arriviamo alle parti di trama un pochino più deboli di questa terza ed ultima puntata noi vediamo Isildur che bene o male si è salvato ha conosciuto questa ragazza e poi ad aiutarli arriva appunto l'elfo di colore tra l'altro non so per quale motivo ma la presenza di questo elfo nei trailer si è veramente vista pochissimo la sua trama non ti dico che è finita però non mi trasmette bene o male nulla perché il senso stesso di questo elfo era legato alle terre del sud dato che appunto non ci sono più le terre del sud adesso c'è letteralmente Mordor deve trovare un obiettivo per andare avanti no e il fatto che poi ti fanno vedere anche il figlio di quella donna che lui stesso amava che tra l'altro anche tra loro il rapporto non è dei migliori secondo me questa parte di trama non sono appunto un granché poi andiamo avanti c'è anche la risoluzione del conflitto tra Durin padre e Durin figlio carina interessante questa niente di che è il mio modo di vedere poi ti fanno vedere anche che questa ragazza che ha conosciuto Isildur ha il marchio di Adar quindi dovrebbe essere anche lei una servitrice di questi orchi o quantomeno di questo elfo scuro e poi negli ultimi screenshot ti faccio vedere anche come la regina di Númenor stava per accettare appunto questo suo ruolo dopo la morte del padre solo che qua arriva il plot twistone politico perché la regina poteva consultare il palantir tra ricordi questa sfera di cristallo che gli permetteva di vedere il futuro e quindi dicono guarda ma se questa persona si fida degli elfi non ci possiamo fidare di lei insomma c'è tutto un drama e poi il tutto si conclude con l'elezione tra virgolette di Farazón appunto questo personaggio che fin da subito l'avamo capito che non era fedele appunto alla regina che tra l'altro la regina era pure diventata cieca nel contesto nel quale era andata nelle terre di mezzo durante la prima stagione quindi tu hai qua un personaggio in estrema difficoltà ancora di più ed è interessante che poco prima appunto di questo drama era arrivata anche un'aquila probabilmente per supportare appunto la regina di Númenor anche se poi qua il tutto è stato ricontestualizzato per dare un supporto appunto a questo personaggio vedremo come il tutto si evolverà io ti devo dire sono più interessato a vedere la caduta di Númenor che non tutti questi intrighi politici perché al momento non sono chissà che cosa e poi appunto l'ultima cosa che ti fanno vedere all'interno di questa terza puntata è come Annatar o quantomeno Sauron va a creare gli anelli del potere per i vari nani che tra l'altro sono stati convinti appunto a donare altro Mithril per poterli forgiare qua è importante questo passaggio perché il Mithril viene passato dalle mani appunto di Durin Padre a Celebrimbor e poi anche ad Annatar proprio perché deve cercare di mettere all'interno di questo materiale un po' del suo potere e quindi far funzionare questi questi anelli del potere infatti poi questa è l'ultima scenetta detto questo gente bene o male queste erano le mie opinioni appunto per quanto riguarda queste prime tre puntate di Rings of Power secondo me la serie ha cominciato bene però io mi auguro che continuano con questa tendenza di farci vedere un pochino più di Annatar di Sauron anche perché ci sarà sicuramente una battaglia all'interno di Eregion che sarebbe la location dove si trovano appunto i personaggi in questo momento con Celebrimbor e la sua forgia però altre trame secondarie come quella di Númenor e di Isildur dell'elfo di colore e altre cose sinceramente non sono così tanto interessanti in questo momento però detto questo fatemi sapere voi che cosa ne pensate appuntamento la prossima settimana per la recensione della quarta puntata di Sauron